Gli abitanti di Illica, Grisciano e Accumoli in provincia di Dieti hanno occupato la salaria. Sono stanchi dello stato di abbandono da parte del governo e delle istituzioni. Dopo quattro mesi dal tragico sisma, la situazione è la stessa del 24 agosto. Sono fermi al 25 agosto. Oggi per noi, malgrado la temperatura, è estate. Oggi è 25 agosto per noi, perché il giorno dopo il terremoto è identico ad oggi. Il freddo e il gelo, clima abbastanza prevedibile a mille metri d'altezza, hanno fermato le piccole iniziative che lentamente erano state di prese. Così in mezzo al gelo. La mattina entriamo, vediamo casa e ce ne torniamo. Il nulla, nulla, soltanto sassi. Adesso li vedete un po' movimentati da venerdì perché si sapeva che arrivavano le telecamere e quindi si stanno dando da fare. Speriamo che lunedì non se la danno a gambe.